amici dell'orentini benvenuti per questa due giorni di mountain bike ci prepariamo a vivere la coppa italia sprint vedremo se gli azzurri sapranno avere la meglio di una concorrenza straniera molto agguerrita ma prima scopriamo questo territorio quello della grande guerra ma anche il territorio del cibo il prosciutto quello buono e del vino toccai friulano all'orientiring a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.